Allora, si chiama Mazza e pesa intorno a questa qui, intorno a mille chili, mille. Come un'automobile. Come un'automobile, pensate a lanciare un'automobile, è quello vero, è l'originale, è qui dal numero 116, ok? E lo porto qua sotto, cioè il mio collega che lavora all'attivazione, io lo metto bene sotto la Mazza, ok? E dico al mio collega, lascia, boom! Lascia, boom! Il prezzo si è raffreddato un pochino, quindi torniamo al forno per scaldare ancora un po', bello faticoso, vi assicuro che pesa questa pizza. Che rumore era questo? È l'atrice. No. Fersa. Eh? Fersa. Fersa? Qualcuno di voi conosce una fersa? La morsa, sì. Io conosco una fresa. Ecco. Una fresa, voglio dire, non una fersa, una fresa. Perché tutta la macchina si chiama fresatrice, mentre la fresa è la lama che si va a mettere qua, che serve per tagliare. Quindi, fresatrice, fresa, ok? Questo è un torno, tutti questi macchinari si utilizzavano con il legno. Dove si metteva il pezzo di legno? Qui. Qui? No. No. Qui? Sì. Esattamente. Qua in mezzo andava fermato il pezzo di legno che si voleva lavorare. Se il pezzo che voglio modificare io è piccolo così, come faccio? Ci può stare qua? Di una roba. Giro, bravissima. Giro la manovella. Quindi questa mi si deve spostare, mi si deve muovere. Adesso aprite di nuovo bene le orecchie che adesso sentite un altro rumore. Giro, bravissima. Giro, bravissima. Giro, bravissima. Grazie. 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 Grazie.